Benvenuto e benvenuta nella puntata di oggi di Una Mela al Giorno. Oggi l'ambiente, come vedi, è un po' cambiato, abbiamo uno sfondo neutro, stiamo modificando alcune cose nel tentativo di migliorare la qualità di quello che stiamo facendo per te. Comunque, a parte questa breve intro, mi fa piacere vederti qui oggi per parlare di una problematica che sicuramente hai già conosciuto in maniera diretta o indiretta. Ti sto per parlare del dolore che compare dopo una giornata di forte attività fisica, dopo una giornata di allenamento intenso, oppure quando ti trovi magari nel giardino o piuttosto che in alcune situazioni a fare un lavoro che non facevi da molto tempo. Quindi il tuo cervello aveva un bel ricordo perché aveva già fatto quel tipo di dettaglio e non aveva mai risentito nessun dolore a livello muscolare, ma questa volta a distanza di una, massimo due giorni, compare un fastidiosissimo dolore a tutti i tessuti muscolari. Molto spesso ho sentito commentare le persone a questo proposito dicendo sì, è l'acido lattico, però non è di fatto così. Che cos'è l'acido lattico? Perché non può essere lui il responsabile di questo tipo di dolore, ma soprattutto qual è il reale responsabile di questo dolore che compare a livello muscolare dopo 24-48 ore da un'intensa attività fisica e cosa puoi fare fin da subito per migliorare il tuo stato di salute. Partiamo immediatamente con la presentazione di oggi. Il dolore muscolare dopo aver fatto l'attività fisica è un tuo problema? Non si tratta dell'acido lattico, ma si tratta del DOMS. La parola ti può sembrare un po' strana, se ancora però pensi che il dolore muscolare che compare a distanza di uno o due giorni da un esercizio fisico intenso sia causato dall'accumulo di acido lattico nei tessuti, beh, ti stai sbagliando. Sei davvero rimasto indietro? Ti spiego un po' velocemente che cosa accade quando si produce l'acido lattico. Normalmente il muscolo è una struttura che funziona e produce lavoro, si contrae contraendo, si muove le parti del corpo. Per fare questo ha ovviamente bisogno di energia e oltre all'energia ha bisogno di ossigeno per trasformare questa energia in lavoro meccanico. Nel caso in cui abbiamo sufficiente ossigeno possiamo andare incontro a un lavoro normale con un metabolismo che viene definito di tipo aerobico e quindi che ha sufficiente aria, in questo caso ossigeno, per poter funzionare correttamente. Nel caso in cui invece la richiesta di lavoro superi la nostra capacità di fornire ossigeno nel muscolo, interverrà un metabolismo di tipo anaerobico che produce energia ma affatica tantissimo il muscolo perché produce delle sostanze di scarico che si accumulano nel tessuto. Queste sostanze di scarico è proprio l'acido lattico. Però cosa accade non appena noi smettiamo di lavorare, non appena cessiamo di avere un metabolismo di tipo anaerobico e rientriamo in un metabolismo di tipo aerobico? Ecco che quell'acido lattico prodotto e accumulato viene riassorbito e ritrasformato in energia. Quindi di lì a poco, nel momento in cui interrompiamo l'attività fisica intensa, quell'acido lattico viene riassorbito. Non è quindi il reale responsabile del dolore che compare addirittura 48 ore dopo un esercizio fisico intenso. Ma se non è l'acido lattico, qual è la reale causa di questo problema, di questo dolore che colpisce non le articolazioni, ma fai attenzione, proprio la struttura muscolare. Per cui il muscolo quando lo vado a toccare con le mani fa male, oltre a quando lo allungo e lo utilizzo. Quindi mettiamo una X sopra l'acido lattico come responsabile e iniziamo a parlare di DOMS. Che cos'è questa che non è una parolaccia, ma DOMS è un acronimo, ossia è un nome composto dalle prime lettere di quattro parole diverse che sono state riunite e che si servono per capire di che cosa si tratta. Il DOMS deriva dall'inglese delayed unset muscle soreness, ossia un dolore muscolare che compare a distanza di 24-48 ore dopo l'esercizio fisico eccessivo rispetto a quella che è la nostra capacità di performance. E quindi è un dolore ritardato che coinvolge il muscolo e fa sì che questo diventa tutto indolenzito nella fase successiva. Quindi non mentre stiamo facendo attività fisica, ma bensì a distanza di tempo. Cerchiamo di capire ora perché compare con queste tipologie di caratteristiche. Quando compare il DOMS siamo di fronte a una lesione muscolare. Ma che tipo di lesione muscolare? Normalmente le lesioni muscolari, ti hanno già parlato, vengono classificate in tre grandi categorie. La lesione muscolare di primo, secondo e terzo grado, secondo RAID, una classificazione del 1982. È vecchiata ma è ancora molto valida. E che mi dice che se il muscolo, che è costituito da tante singole fibre muscolari, che sono unità come i mattoncini per i lego che costituiscono il nostro muscolo, queste singole unità, se sono lesionate dallo 0 al 25%, stiamo parlando di una lesione muscolare di grado 1. Se invece le fibre muscolari del muscolo in questione sono danneggiate per una percentuale che va dal 25 al 75%, siamo davanti a una lesione muscolare di grado 2, mentre se questa lesione supera il 75% delle fibre, siamo in presenza di una lesione di grado 3. Ma qui nel caso del DOMS stiamo parlando, ti sto parlando di una lesione di grado 0. Che cosa significa tutto questo? Significa che non c'è una vera lesione muscolare. Significa che la fibra muscolare non è stata lesionata. La cellula muscolare è ancora integra. La sua parete è integra, non è stata rotta. E ciò che accade è una lesione dell'ultrastruttura, ossia della struttura interna alla cellula muscolare. Dentro la cellula muscolare sono presenti delle strutture proteiche che hanno una particolare funzione. Ti sto parlando dell'actina e della miosina. Immagina queste due strutture come... Guarda, te li faccio un esempio. Come se fossero due dita, una sovrapposta all'altra. Quando le due estremità, i due polpastelli, si toccano, entrano in collegamento, si legano, e le dita cominciano a flettersi, avvicinando le mani una rispetto all'altra. Ecco, proprio questo effetto di avvicinamento delle due estremità, a cura dell'actina e della miosina, che si modificano nella struttura tridimensionale, nello spazio, quando sono legate, ecco, su questo meccanismo è basata la contrazione muscolare, perché questo meccanismo viene riprodotto su tantissime altre strutture. La somma delle singole contrazioni, delle singole strutture proteiche, produce alla fine il lavoro globale complessivo del muscolo. Quindi che cosa accade nel caso del DOMS? Accade che actina e miosina non riescono più a slegarsi e non riescono più a distendersi come dovrebbero. Quindi quando io faccio un lavoro di allungamento del muscolo, posso sentire dolore. Quando lo vado a toccare, lo sento comunque congestionato. Questa è fortunatamente una tipologia di lesione che si risolve in maniera completamente autonoma nell'arco di 96 ore. Quindi stiamo parlando di tre giorni, quindi un dolore che compare al massimo due giorni dalla lesione e poi che si risolve solitamente in altri tre giorni. Quindi nell'arco di cinque giorni solitamente scompare gran parte del dolore. Ecco che la parete della fibra muscolare non risulta in questo caso mai danneggiata e quindi quando il muscolo va in riparazione non lascerà mai una cicatrice. Questo tipo di lesione non sarà più visibile in futuro né tramite ecografia né tramite risonanza magnetica. Fortunatamente in questi casi il muscolo si riprende completamente. Vediamo un po' cosa dobbiamo fare per riuscire a raggiungere questo risultato. L'unica cosa che dobbiamo realmente fare è concedere alla struttura muscolare un adeguato recupero. Con il DOMS è il muscolo che soffre e che diventa dolente, rigido, affaticato e debole. Queste sono le caratteristiche che definiscono la struttura muscolare nel momento in cui stiamo percependo il DOMS mentre lo stiamo vivendo. Quindi il muscolo diventa dolente all'allungamento e al tatto quando lo tocchiamo, quando lo palchiamo, quando lo massaggiamo. È dolente. Diventa rigido sia al tatto che all'allungamento. Diventa affaticato quindi non riesce più a produrre il suo lavoro con grande capacità e diventa debole. Diventa fragile. Non è più capace di sviluppare la sua forza massimale ma diciamo che si affatica molto molto velocemente. Quando stai vivendo un DOMS devi fare molta molta attenzione a non procurare un nuovo sovraccarico prima del recupero. Perché? Perché in quel frangente, in quel particolare lasso di tempo, in quella finestra temporale hai un elevato rischio di una nuova lesione muscolare che di solito è sempre più grave della precedente. Quindi significa che se non rispettiamo il corpo non gli consentiamo i corretti tempi di recupero da una lesione di grado 0 possiamo passare a una lesione di grado 1. Se invece siamo di fronte a una lesione di grado 1 potremmo passare a una lesione di grado 2 o addirittura 3. Quindi è fondamentale, è importantissimo quando stiamo vivendo una problematica legata a una lesione muscolare dare i corretti tempi di recupero al nostro corpo. Se stiamo parlando di DOMS almeno 3 giorni dopo la comparsa del dolore muscolare e se ovviamente trattiamo in maniera adeguata il muscolo e se utilizziamo tutti gli strumenti a nostra disposizione per accelerare tutto il metabolismo che caratterizza il recupero di questo tipo di situazione. Ecco che cosa possiamo fare per risolvere il DOMS nell'immediato in maniera molto semplice ma subito efficace. Si tratta dello stretching e del riposo le due armi che abbiamo a disposizione. Lo stretching sto parlando di stretching fatto dopo l'attività fisica perché questo tipo di applicazione dello stretching quindi dopo l'attività fisica è in grado di ridurre il fastidio e il dolore dato dal DOMS anche per il 30-40% sul dolore e il fastidio percepito. Quindi è fondamentale utilizzare lo stretching come strumento dopo l'attività fisica perché riduce notevolmente il dolore collegato al DOMS quindi è importante sapere se siamo in situazione di DOMS e che in questi casi si può fare lo stretching ed è molto molto efficace soprattutto appena terminata l'attività fisica per evitare che nelle 24-48 ore successivi si sviluppi un forte stato di DOMS. Ora vediamo l'ultimo punto che puoi mettere in campo per migliorare il tuo stato di sofferenza riguardo al DOMS che è il riposo concetti di sempre il giusto riposo ci penserà il tuo corpo a guarire questa è una delle cose meravigliose del nostro metabolismo che prevede una autoguarigione non è mai il medico con le sue cure con qualcuno all'esterno che ci fa guarire ma è il nostro corpo che guarisce la figura del medico del terapeuta del fisioterapista dell'osteopata sono tutte figure che ti supportano ti dicono qual è la situazione ti aiutano con degli esami con dei test con la loro esperienza ma quello che guarisce è sempre solo il tuo corpo quindi ci penserà lui a portare a termine il processo di guarigione nel caso del DOMS se tu gli darai il corretto riposo se lo aiuterai con lo stretching in maniera adeguata vuoi conoscere i tempi le modalità di stretching e di riposo per guarire in caso dei DOPS beh continua a seguirmi e vieni a leggere gli articoli che sono presenti sul mio canale di comunicazione preferenziale che è il mio sito www.paolobruniera.it oppure continua a seguirmi sul mio canale di Twitch perché da gennaio comincerà una nuova esperienza con Dr. Gamer e lì andremo in diretta e ci confronteremo sui temi della salute parleremo proprio di salute ma per la prima volta interagendo con chi ha voglia di seguirmi quindi il canale di Twitch è Dr. Gamer lo puoi trovare molto semplicemente entrando e scrivendoti a Twitch e potrai così interagire direttamente con me in alcuni momenti in diretta continueremo comunque l'attività di una mela al giorno per quanto riguarda la parte audio e anche la parte video direttamente sul canale di YouTube di Dr. Paolo Bruniera quindi ovunque tu voglia cercarmi trovarmi se preferisci il canale video audio registrato in diretta sappi che io gradisco l'interazione per capire quali sono i problemi che stai vivendo in questo momento e per poterti fornire tutto l'aiuto e il supporto che posso per aiutarti a migliorare il tuo stato di salute e vivere ogni giorno in salute e con una grandissima grandissima energia quindi non mi resta che salutarti io ti do l'appuntamento alla settimana prossima sempre di martedì sempre alle 13 per una nuova puntata di una mela al giorno e mi raccomando stai pronto a gennaio con le prime dirette sul canale Dr. Gamer di Twitch e se non l'hai ancora fatto e mi stai guardando in questo momento su YouTube mi raccomando iscriviti al canale clicca sulla campanella così sarai sempre aggiornato sui nuovi episodi inoltre ti invito a venire a visitarmi sul mio sito www.paolobruniera.it dove potrai iscriverti alle newslettere ma soprattutto potrai immediatamente scaricare quello che è il manuale gratuito per l'applicazione del metodo Equilibrium che ti darà subito degli strumenti efficaci per cominciare a migliorare il tuo stato di salute e a crescere la tua energia personale e adesso andiamo in chiusura mi raccomando ci vediamo alla prossima e salute a te per l'applicare Grazie a tutti.